se io dovessi partire e andare in un posto lontanissimo per tanto tempo in un posto in cui non vendono profumi quale profumo mi porterei non avrei nessun dubbio a scegliere questo jubilation 25 di amouache perché proprio lui è semplicissimo allora intanto perché è un odore stupendo un odore perfetto un odore sexy sensuale ed è la cosa principale ma è anche un odore molto aulico un odore da principe un odore orientale un odore importante e per chi ha delle prestazioni altissime questo profumo ha qualcosa di magico qualcosa che lo rende unico al mondo non esistono profumi che hanno questa caratteristica che a lui mi spiego meglio all'interno di questo flagone sono rinchiuse le anime di tutti i profumi più buoni di amouache di tutti i capolavori di amouache all'interno di jubilation 25 riecheggiano i migliori profumi di amouache riecheggia epic riecheggia interlude riecheggia reflection e tanti altri quindi i profumi più buoni del mondo sono richiusi all'interno di questa boccetta qui per questo io penso che questo profumo qua è veramente un capolavoro e non avrei il minimo dubbio in un ipotetico viaggio se dovessi portarmi un solo profumo a scegliere lui un'altra cosa importante importantissima da non sottovalutare è il fatto che questo profumo oltre ad avere una persistenza enorme è un perfetto quattro stagioni si può indossare in tutte le fasi dell'anno si può indossare la mattina e la sera ed è assolutamente indossabile con qualsiasi outfit quindi la portabilità di questo profumo è decisamente altissimo tornando al suo odore è assolutamente impossibile spiegarvelo attraverso la piramide olfattiva abbiamo franchincenzo resine balsami legni pregiati frutta secca arancia cardamomo un odore da principe un odore da mille e una notte che agli occhi delle donne ti renderà veramente un sultano qualcosa di magico e che volete l'appetito viene mangiando una volta che ve ne ho parlato gli espruzzi non me li devo mettere mamma mia spettacolo innamoratissimo grazie a tutti grazie a tutti